Tu devi sapere che quasi sempre per riuscire a sopravvivere noi ci aggrappiamo a delle convinzioni che molto spesso chiamiamo ingenuamente realtà. Ma la nostra comprensione delle cose a volte può trarci in inganno e ciò che erroneamente crediamo sia reale potrebbe costituire invece una mera illusione che ci allontana dalla verità. Grazie a tutti.